Sono qua oggi per scolpare la ficcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiii E non si riesce a capire un cazzo! come molti di voi forse pensano io odio le cipolle non ho un canale youtube ma io ho qualcos'altro ah ovviamente essendo italiano odio la pizza con le cipolle e quindi niente cipolle e lolle lollo pacollo ma non mollo Andrea che cazzo fai? ho carissimo sesso con le cipolle come ti è nata la voglia di scopare? eeeeh bella domanda ma teo minchione davori spavo che squadra tifi se non tifi non importa sta domanda l'ho già vista però non so che cazzo significhi cosa fai se ti entra un bovino alato in casa? ci faccio amicizia il logo che hai del canale l'hai fatto tu? oppure te l'ha fatto un gabbiano in casa? no come mai ti sei avvicinato al mondo di you qualcos'altro? hm 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 guardando alla f*** me ne sono innamorato e cazzo dovevo farci cazzetto Pietro Borcellone da Boris Pabbo sei fidanzato con Shark? no con le cipolle la cipolla scusate per l'aria emoscia ma quando ti è venuta l'idea di fare la sega? sega l'anno scorso l'anno scorso a luglio MC scimmia da Boris Pabbo quanto ci metti in media a fare la sega? dipende dipende il tempo impiegato può variare tipo un botto, un biscotto, un sapone, un orone, un mattone vabbè sta di fatto che un tempo ero milanista ma adesso non fa cesta insomma simpatizzo per il musolini di cane qual è lo youtuber che ti sta più sulle palle? M.A.T.P vabbè scherzo per questo video è tutto ci rivediamo in un prossimo video benedì cazzi